ciao benvenuti in un altro episodio di novembre oggi è un episodio un po' speciale un po' diverso dagli altri perché voglio darvi prima di tutto un consiglio legato all'italiano all'imparare l'italiano e all'internet o alla tecnologia perché il lunedì qui a novembre parlo di questo ma poi voglio anche spiegarvi e annunciare una sorpresa qualcosa di speciale che ho preparato per voi quindi ascoltate fino alla fine perché ci sarà una sorpresa per voi prima di tutto però appunto voglio dare il mio consiglio per chi impara l'italiano oggi nel 2020 infatti oggi nel 2020 è facilissimo trovare su internet tantissime tantissime davvero risorse per imparare l'italiano ci sono tantissimi canali youtube podcast siti web corsi anche gratuiti anche che non costano niente o anche che costano molto poco questa è una cosa bella è bello che ci siano tante risorse ma può anche essere una cosa brutta mi spiego meglio il fatto che ci siano così tanti contenuti gratuiti così tante risorse per imparare l'italiano può anche essere negativo può anche essere un ostacolo perché perché molto spesso quando abbiamo tante cose troppe cose tra cui scegliere scegliere diventa difficile e quindi non iniziamo e quindi ci blocchiamo e non facciamo niente perché abbiamo troppe possibilità un altro problema di questa abbondanza di risorse cioè del fatto che ce ne sono tante è che seguire tante persone o tanti corsi di italiano diversi può essere un problema perché ogni insegnante ha il suo metodo ogni insegnante ha il suo modo di insegnare giustamente ogni metodo è diverso e spesso è meglio secondo me e questo è il consiglio che do anche a te spesso è meglio concentrarsi su poche risorse ma buone cioè scelte bene selezionate bene e soprattutto su poche risorse risorse che poi usi davvero perché quante volte anche a me capita di iscrivermi a tanti corsi gratuiti su internet o seguire tanti canali youtube tante persone e poi in realtà guardo poche cose e le guardo male perché ho troppa troppa scelta quindi il mio consiglio di oggi è scegliere solo una o magari due risorse due insegnanti online che ti sembrano veramente bravi che ti piacciono che hanno un modo di insegnare di parlare di parlare di spiegare che ti piace e poi seguire soltanto quelli poi dopo quando ti sentirai più sicuro più sicura sull'italiano potrai anche guardare o ascoltare o leggere altre cose ma all'inizio meglio concentrarsi su poche risorse ma buone in italiano si dice pochi ma buoni cioè poche cose ma scelte bene e veramente belle utili di valore adesso però è arrivato il momento di parlarti della sorpresa che ho preparato in questi lunghi mesi su www.italianobello.it è possibile iscriversi a un corso gratuito è un mini corso cioè un corso piccolo e questo corso si chiama pronti partenza via pronti partenza via sono le parole che dicono che si dicono per esempio all'inizio di una gara di corsa o di nuoto o di bicicletta pronti partenza via e sono le parole che si usano per dare il via alla gara di corsa o di nuoto o di di bicicletta o di moto e ho chiamato così questo corso perché questo corso completamente gratuito è pensato proprio per te che stai cominciando a studiare l'italiano o che già stai studiando l'italiano ma vuoi continuare e vuoi migliorare il tuo italiano si chiama pronti partenza via perché in questo corso voglio dare tutti gli strumenti tutte le cose necessarie per cominciare o continuare bene a imparare l'italiano ti darò tanti consigli pratici e sarà interessante per te seguire delle piccole lezioni completamente in italiano come funziona il corso sulla pagina www.italianobello.it che metto anche nella descrizione dell'episodio è spiegato tutto cioè troverai tutto scritto come funziona il corso ma te lo dico anche qui il corso è completamente gratuito cioè non costa niente e per avere le lezioni del corso devi iscriverti cioè devi scrivere il tuo nome e dare il tuo indirizzo email perché tutte le lezioni ti arriveranno nella tua casella mail nella tua casella di posta elettronica il corso inizia giovedì 3 dicembre giovedì 3 dicembre riceverai nella tua casella email la lezione del giorno 1 la prima lezione nella quale parleremo di come trovare la mentalità giusta per imparare l'italiano perché bisogna sempre partire dalla nostra testa dalla nostra mente se non c'è la mentalità giusta è difficile imparare qualcosa di nuovo il secondo giorno venerdì 4 dicembre riceverai nella tua casella mail la seconda lezione dove ti dirò come puoi scegliere come puoi selezionare il metodo migliore secondo me ovviamente per studiare l'italiano e potrai anche scaricare un libro che secondo me è molto utile per imparare l'italiano il terzo giorno sabato 5 dicembre ti arriverà la terza lezione dove ti darò i miei consigli su come puoi usare internet appunto per imparare l'italiano ma senza perderti ti spiegherò come scegliere le risorse che sono giuste per te e ti spiegherò come evitare di perderti nel mare di informazioni che ci sono su internet e anche qui potrai scaricare un foglio di lavoro cioè alcuni esercizi in formato pdf e martedì 8 dicembre ci sarà l'ultimo giorno del corso pronti partenza via l'ultima lezione che sarà la più bella e la più importante perché non sarà una video lezione come le altre ma sarà una lezione live in diretta streaming cioè martedì 8 dicembre alle ore 21 italiane ma troverai anche l'ora nel tuo paese ci incontreremo online in diretta per imparare come puoi strutturare la tua routine di studio cioè come puoi effettivamente studiare tutti i giorni in un modo che sia utile cioè efficace ma anche divertente e sostenibile nel tempo in un modo che è per te bello facile divertente e questa serata l'8 dicembre sarà molto bella perché finalmente potremo conoscerci anche se soltanto online e ci sarà anche una sorpresa per te una sorpresa per chi vuole continuare a migliorare il suo italiano quindi pronti partenza via corso completamente gratuito per per avere le lezioni devi iscriverti e trovi tutte le informazioni e trovi anche il posto dove ti puoi iscrivere sulla pagina www.italianobello.it io non vedo l'ora cioè sono davvero molto contenta di questo corso sono sicura che se stai imparando l'italiano ti piacerà e soprattutto non vedo l'ora di conoscerti cioè ho tanta tanta voglia di conoscerti e di sapere qualcosa di te e della tua storia del perché vuoi imparare l'italiano quindi www.italianobello.it per iscriverti al corso gratuito e io ti aspetto ma intanto i prossimi giorni potrai ascoltare i prossimi episodi di novembre ciao e buona giornata ciao 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 ciao